Ehi, come state? Io sono un po' sotto sopra, vabbè, a parte questo, parlerò un pochino di Cernias. Cernias è un pochino di tipo Folletto, però sarebbe stato bello se la mettessero di tipo erba, psilico, tutta la vita. Tipo erba non ce la vedrei, effettivamente. E allora? Non lo so. Psilico sarebbe bello perché riesce a controllare in realtà. No, non sei in tutto che è psilico. Qui c'è Irelta. Vivo. Oggi su Pokemon Go ho visto Cernias. Perché l'hanno aggiunto. Esatto. E spero che aggiungano anche tutti i leggendari. Dai, Jack, il mio punto è debole. È così bello. Perché oggi, a parte di essere sotto sopra, mi sono guardata Zorak, il re delle illusioni, su Anime World. Adesso vi faccio vedere. Anime World. Allora, permessa. Questa è un'app che vi farà vedere tutti i vostri filmati preferiti. Anime non cattolino animati. Adesso mi dico perché si chiama Anime World. Qui c'è tutto, insomma, perché stavo proprio guardando proprio quella, ma dettagli, dettagli, dettagli. Eh, mamma mia, cos'è sta roba? Eh, in realtà, è Cernias. Se è così insieme, vabbè. In pratica un pochettino mi piace questo aspetto di Cernias, devo dire. Poi la cosa che mi ha stupito è la voce femminile. Credevo che fosse un maschio. Io Cernias non dà molto così da femminile. E, infatti, comunque sia, io vado matta per Cernias, molto bella e maestosa soprattutto. Vabbè, astag, sotto sopra.